Dico tanto Non mi fate mettere bip Non mi fate di cose che non voglio dire Dico tanto Che veramente No No porco Devo dire Ma che guarda Ma che guardo bene Lo stiamo a registrare a pasta sto video Porco Non è possibile Ragazzi come è andata questa giornata di fantacalcio La ventinovesima Siamo quasi alla fine di questo caso Fatemelo sapere qua sotto nei commenti E aggiornatemi anche con la vostra situazione di classifica Tu non sai niente Tu non puoi No Fabio Non lo voglio sapere No Fabio No lo devi sapere Tu non puoi capire Come direbbe il signor Magnotta Non ne voglio sapere No no Tu ne devi sapere Perché tu non puoi capire Tu non puoi capire Le scelte e le scelte obbligate che hanno fatto è la catastrofe Io ti dico solo Io ti dico solo che in porta titolare sono stati costretti a mettere Perisan che perisan che giocava contro il Milan Contro l'Atalanta Che forse lo avrei anche accettato guardando l'Atalanta Non ci credo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Per seguire il mondo del calcio Vi basterà passare sul link in descrizione ragazzi E correre a scaricare OneFootball La migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio Statistiche, notizie, curiosità, risultati delle partite in tempo reale Vi fanno rivedere gli highlights di qualsiasi partita esistente al mondo Se io scendo sotto casa a giocare a pallone Vi fanno rivedere gli highlights Pure dalla partita mia Pure se gioco da solo contro 11 birilli 10 birilli Che cosa No 11 Io contro 11 birilli Che cosa state aspettando L'applicazione vi sta aspettando Ed è gratis dal link in descrizione Siamo sicuri che non ve ne pentirete Vai prendi il telefono O sei contro chi giocavamo? Eh no non mi ricordo Dovina Che ne so Contro la prima classifica E certo E certo Giocavamo contro gladiatore e sick No Allora Ciao innanzitutto Beverly Imps poi Un nome e un perché Ma non voglio aggiungere altro Detto questo Io ti dico la verità Non so se partire da loro Io parto da noi Voglio Parti da noi Perché poi tu devi vedere come si sono concatenate delle determinate situazioni Parti da noi perché sto pensando Se loro c'avevano Perisan obbligato Che ha preso l'impattibilità Oppure noi Con Begnano C'abbiamo l'impattibilità Ma non è la stessa cosa Eh lo so Perché tu fai 6 più 1 a 7 Ho capito però Tu fai 6 più 1 a 7 Sei Begnano Prima facevamo Prima facevamo 5 meno 4 1 Dico Dico tanto Senti non mi fate mettere bip Eh Non mi fa di cose che non voglio dire Dico tanto Allora Difesa a 4 per il modificatore Eh? Difesa a 4 per il modificatore Noi sì ma anche loro Preparate Noi abbiamo fatto solo danni Noi abbiamo fatto solo danni Perché fammi andare a guardare Ecco appunto Allora Forza No ma la cosa La cosa assurda è un'altra Cioè la cosa che in questa partita Mi ha fatto rosicare è un'altra Che veramente No No porco Devo dire Ma che guarda Ma che guardo bene Lo stiamo registrando a pasta Sto video Porco Ah Non è possibile Che è successo? Eh vabbè Mo ci arrivo Megnano 6 più 1 e 7 Imbattibilità E già abbiamo perso un punto Nei loro confronti Col portiere dell'Empoli Che manca è vicario Vabbè Poi Difesa a 4 E i Zbue 5 e mezzo Voi capite bene Che servono voti alti Dice no Servono 3 difensori E il portiere Servono voti alti Per prendere più punti possibili Al modificatore difesa Poi E i Zbue 5 e mezzo Rachmani voto 6 Poi L'unico che non delude mai L'unico Smalling Voto 7 7 L'unico Ma ti preannuncio Che non servirà a nulla Il 7 desemoni Era bastoni dell'Inter Che non ha giocato Che non ha giocato Chi entra? Dice super Mamma mia L'avevo visto Dice super Mamma mia Chi entra? Ma l'unico che ha giocato Chi è? C'è Ferrari Non ha giocato Non ha giocato Rezza Non ha giocato Mazzocchi sta più scocciato Che che è Chi è? Noi E' imperso 5 e mezzo E' morito 5 Secondo te l'avemmo preso Un punto Almeno un punto De modificatore difesa? Ma ha buttato proprio a caso Forse si Pec Pec Allora Wijnaldum Voto 6 e mezzo Ok Ma Wijnaldum Io non so se L'hai vista la partita Hai visto come A un certo punto Centometrista Cioè all'ottantesimo Correva Addirittura Correva più di quelli Che erano appena Entrati nel Torino Cioè Una velocità clamorosa E ok Sta rientrando in palla 6 e mezzo Meritatissimo Meritato Cioè Sono scelte Strefezza Senza voto E' entrato E' subentrato Duda Che prende 6 Cioè De tanti giochi Ha assegnato tu gol Al Verona De tanti giocatori Che ti aveva assegnato Tutti tranne che Duda Ma Duda un gol Non lo poteva fa Sai perché L'ho messo primo panchinaro L'ho preferito a Ghiasi Che ha preso 5 Meno 0,5 4 e mezzo Lì ci sei Meno male Sai perché Perché Dovina un po' Perché pensavo Che il Verona potesse fa qualcosa Pensavo che Duda Potesse fa qualcosa Il Verona ha fatto Duda no Il problema Nel giocatore no Poi Poi dopo Duda Questa è una scelta mia Questa è una scelta mia Lovric 7 più 3 10 Meno male Non mi si Sì ma tanto Non serve a niente 7 più 3 10 Non mi si può Dire nulla Già qualcosa Non mi si può Dire nulla Già qualcosa Ha tirato 10 volte in porta 7 più 3 10 Guardando anche le altre scelte Dei centrocampisti Cioè se andavi a mettere Già sì Al posto del Lovric No stavi fuori De capo Ti avrei venato Allora poi Ragazzi E Lautaro Tocchiamo subito il tasto Lautaro Noi abbiamo lo stesso problema Dell'Inter Noi siamo di una sterilità Offensiva grave Clamorosa Schifosa Vergognosa Lautaro Martini Mi rimette a sede Lautaro Martini 5 e mezzo Vergognoso Se solo ripenso all'asta Se solo ripenso all'asta Ma poi Ma pure Inzaghi Che per turnover Per cose Ha fatto giocar Sessantesimo Ma chi lo voleva Ma chi lo voleva Lautaro Martini E se ripenso a chi volevo io E a quanti call ha fatto E a chi volevi pure tu E a quanti call ha fatto Perché volevamo due giocatori diversi Come primo attaccante Hanno fatto dieci call in più D'Auto Lautaro Martini Pinamonti Pinamonti Cinque e mezzo Ammonito cinque Grazie 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 C'avete l'attacco più forte C'avete l'attacco più forte Del fantacalcio Degli youtubers Che abbiamo visto Fenomeni Fenomeni E dopo Desserts Sei e mezzo Assist sette e mezzo Sarà troppo Sarà troppo Infatti O metti in panchina Con i cinque e mezzo De Lautaro e Pinamonti O metti in panchina E te fa doppietta Certo Ecco Allora Vabbè quindi noi abbiamo finito Io penso che a stento Arriviamo a settanta Andiamo allora Comunque Facciamo un gol A due Andiamo allora Sette più una otto Peris hanno sette più una otto Ok Marusic Difesa a quattro pure loro Modificatore difesa Prepara Preparate Preparate Che quando l'ho visto I so partiti Veramente A Pasqua Ho peggiorato Ho alzato il livello Ho alzato C'è Capito C'è l'enfasi del periodo Proprio per esaltare Fabbere Marusic Quanto ha preso? Ha preso sei Ah no sei Ha preso sei Ma tanto questo È quello più basso È quello che non conta Perché conta al portiere I tre difensori Col voto più alto Vai Fabbere Carlos Augusto Sette più una otto Assist Vabbè sette Per il modificatore difesa Aspetta Poi? Ewey Ewey Dell'Empoli Ha preso sette Peris Ha preso sei e mezzo Ok E poi? Tomori Sei e mezzo Ha morito sei Ma per il modificatore Conta il voto Senza bonus e malus Quanti punti hanno preso Secondo te Al modificatore difesa? Almeno due Almeno due Poi? A centrocampo Centrocampo a tre Ederson dell'Atalanta Cinque e mezzo Ci sei? Sì Se non si legge dietro le bestemmie E certo E Sarawi Sei e mezzo Ha morito sei Ok Kvara Sei Cioè non ha segnato Kvara Sei Sei Strano Perché quando ci abbiamo contro qualcuno Perché il conto dici Oh senti Mi segna Kvara Mi segna C'hanno immobile Mi segna immobile C'hanno Lucman Mi segna Lucman Ti dico senti Sai che c'è Alza le mani e ti dico Pace Pace Aspetta Kvara sei Simeone sei Che non ha segnato Se è scocciato e via dicendo Immobile sei Sei che non ha segnato Non ha fatto niente praticamente E? Lucman sei Quindi attacco assurdo Dieci volte più forte del nostro Oh tra Qua la scheda è cento grano A inizio stagione dicevano che il nostro era più forte Dieci volte più forte del nostro Quanto hanno fatto secondo te loro? Oh aspetta però C'è loro Non c'hanno un giocatore che gli hanno segnato C'hanno Peris hanno imbattibilità Ma è otto E Carlo Sausto che è otto Sono due e otto Quanto hanno fatto loro? Senti ti posso dire Eh? Ma finì che noi per il rotto della cuffia Siamo arrivati a 72 E loro hanno fatto 71 70 e mezzo Dico una cosa del genere Me ne guarda perché non riesco a guardarli in faccia Perché se no esplodo Noi facciamo Con un punto De modificatore di difesa De modificatore di difesa Paro paro 72 Lo sapevo Ma loro Porco Con tre punti De modificatore di difesa Tre punti Fanno 73 73 Non gli ha segnato nessuno Manco me sbaglio Ma la volta fa 73 Se tacco i due otto Senza un gol Noi abbiamo il gol De Lovic Siamo stati capaci Di pareggiare Contro i primi In classifica Oh ma 73 Senza fa gollo Ma è un botto Ma tu te rendi conto Peris Non importa Obbligati Perché ci avevano Ragazzi Autero Autero E tre punti De modificatore Autero E Vicario Autero e Vicario Io ti assicuro Che Avesse giocato Autero Contro la Cremonese Avrebbero messo Autero Tre fischioni Gli abbiamo Incredibile Il culo Ho preso i tre punti E il modificatore Difesa Vabbè è una partita Che avresti vinto C'è praticamente La vincono Pepe Risan Che gli alza la media Col modificatore Difesa Ragazzi E' annato Sto campionato E' annato Calendario Tuzia Sì 2 a 2 72 a 73 Addirittura Un punto più De noi Vecna Barro 1 Pelato Boys 4 Imaneschi 2 Kimminghia Siamo 0 Brinolis 2 Valespo Lunghi 1 Pirla Svu 1 Birramiretti 0 Fossa delle Marianne 1 Boomwork 0 La classifica Bestemmiante Pasquale Recita così Beverly Imps 48 punti Primi in classifica Consegnate Gli il tricolore Brinolis 42 Vanno a meno 6 Imaneschi Gli abbiamo fatto Un favore noi Imaneschi 41 Ma stava a perdere Puto Ho detto Pareggi una volta Vai ultimo Stavamo secondi Cioè ci hanno superato Ipelato Boys Imaneschi 41 Ipelato Boys 39 Veronica noi 38 Fossa delle Marianne 38 Pareggi la prossima Vai ultimo Vai sotto Ivalespo No 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 Sotto i Vecna Barro Te danno Il dicesimo posto Te danno Che ne esiste Fossa delle Marianne 38 Kimminghia siamo 35 Birramiretti 29 Birlas V 27 Boomwork 27 Valespo Corti No Valespo 25 Vecna Barro 22 Mannata Affan Io non c'è gioco più Ciao